Lui chiama Check Call C'è KKGG 8 e 9 Garrett Averto per 4 16 boost Altri skill Vedi se qua mi scambano meno Epp, buonanotte Buonanotte, scicciolo 9Q Così scelta Vabbè Colas Il main E' ancora parecchio lunghetto Vabbè che qua KQ Sweeted contro 8 e 10 Sweeted Ok I like it Tarno ancora peggio Un bel 7 e 8 ce l'hai Accoppiare il board Ok Siamo ancora di più nazi Uhhh Aveva settato I jack Vamos raga Ho detto non facciamo In attesa di uno squeeze Never give up con lo squeeze Never give up con lo squeeze No No squeeze Qua Con quel check Al turn L'amico nostro Si butta giù dal balcone Senza alcun motivetto Quando fatti salto Quello stack Non credo sia membre Niente picche Good luck Trovo che fa fatti merda Oh bellissimo Morto Bossa Vabbè vabbè Non ti puoi bloccarlo Ma non è Non è normale Aiuto Non si riesce Niente Non è giusto Aiuto Raga Tutto questo Mi lo vede Nel San DeVito Da 100 di Picos Dai bro Usa Che un gas Occupano Anzi No Check check Ho 10 10 Meglio ancora No Dai Questi 80.000 chips Più altre 10 Che ne vanno Flip Mi piace Ok 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 Mi piace Dai Un altro 80-20 Va bene Va bene 40.000 Più o meno Quello che avevamo Prima Avevamo Uno spiccio In più Prima Siamo Fatti Meta Piatto Anche se Dovesse chiamare Nel senso Poi Sempre Colla Sempre River Quindi Nel momento in cui Facciamo Questo Prosegue Siamo rinati Se questo qua Ci ha fu più alto E' super GG GG Ma C'è parte Le volte C'è assolutamente Esatto Un jack Speriamo che non Amite il suo 16% E andiamo Vamos Siamo ritornate all'ottantino Cazzo Ragà Ramos Ci siamo Showa 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 Non possiamo foldare Se lui chiama La questione Diventa interessante Ok Il primo flip Della serata Si inizia Si inizia Tecnici Si inizia E' sempre Gratificante Proprio mental In genere Non è che sappia Molto bene Le regole Rollare Però Diciamo un bel Quarantino Comunque rimane In vita Comunque vada Buon flop Siamo un pochino Di meno di un terzo Dovrebbe Dovrebbe Di amare Le volte è un blef Ma non so Se ti folderemo Invece così Può essere A volte blef Con due picche Che non è uscito Un cazzo Ok Buon Ma siamo Quinti su 70 Quindi E' migliorata Noticolmente Tarn Curioso Lui c'ha Qualche 8x Noi di più Ma Facciamo ancora Check Andiamo E ci betta pure E ci betta pure Snappa Vamos Ok 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 Vinciamo un bel piattino Vediamo La scaletta Sicura 4 secondi 4-5 secondi Quando arrivi a 9 vai Facciamo cliccare Mamma Ui Ora Vai Mamma mia K8 Se ci scammava Con K8 Raga Per tutte queste chip Senza urlare su lì Dobbiamo scivare 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 Noi Vai Vai raga 80-20 I 2-6 Sperdono 2-6 Sperdono Sperdono 2-6 Sperdono Se chiama un piattone Per salire a 30 bui Averto per 3 Deve chiamano lì Di 14 bui e mezzo Spesso dovrebbe mettere Abbiamo segnato come reg Questo Eppure sta giurando abbastanza Antica pocchia Ok Facciamo i dita Sperdono Sperdono Se non si svedi dietro Qualche bestia E' in tal caso Di schiattarli Adesso sei sui Dai like What do I see Ok 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 Yes 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 Aveva solamente out Per poter splittare Con un loop Bisogna fare subito Un double up E ritorniamo Come prima Flippone Dai raga Ok Siamo rinati Semplicemente Dalla quale Prima Non è successo Niente Wow Wow Ma dopo Con il jack turn Dai Cazzo Regular Ciò va il giusto Asso jack Flick Qua abbiamo 21 big blind è morto un altro in quello del super sunday quindi siamo a 10 left bolla fai un'altra bolla anche la ok good luck l'ampiatta è enorme raga se vinciamo oh mio dio un double up e siamo terzi ok ci serve un 30% dai due asso due asso quinti finisce l'avventura nel super sunday di people schifo però c'è un quadrio almeno male malissimo merda vai 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 1300 1200 1300 ciao raga ci vediamo martedì no questo lo stronzo proprio ci vediamo mercoledì sera per la solita schedule serale per la solita schedule serale Grazie a tutti.